Questa è la storia più incredibile che io abbia mai sentito da quando sono entrato in palestra per la prima volta. E adesso, sigla! La storia di Libraim Murray Lambrani inizia nel 1977 tra Tower Bridge e Old Kent Road, un posto di merda, pieno di spacciatori, rapinatori, insomma, gentaglia. La madre aveva conosciuto a Gran Canaria un cuoco marocchino, era rimasta subito incinta, era tornata a Londra e lì aveva partorito lì, il piccolo lì. Il marito aveva continuato a vivere a Gran Canaria facendo, insomma, il cuoco in uno di quei villaggi turistici per inglesi. Quando il piccolo lì aveva sette anni era ritornato a Londra, o meglio, era tornato a Londra a vivere con la madre. E' sempre nello stesso quartiere che Libraim Murray va a scuola, ed è lì che conosce Mark Epstein, The Beast, e Paul Allen, The Enforcer, due amici di infanzia che poi lo seguiranno fino all'epilogo finale, di cui per il momento non vi dico nulla. Mettono insieme una piccola banda, i Buttermash Boys, che, insomma, a un certo punto scatenano una guerra contro i nigeriani che avevano in mano il traffico, il traffico di droga, ovviamente. E vincono, li mandano via. E' lì che il piccolo lì mare capisce di essere dotato di una forza sovrannaturale. E quando torna a casa e per l'ennesima volta il padre ubriaco lo pesta a sangue, lui capisce che con un solo pugno può metterlo KO. E lo fa, così come diranno poi i testimoni, insomma, i vicini di casa alla polizia. La storia di lì mare è pazzesca, perché in pratica mette in piedi questa gang, gestisce il traffico di droga, e non so come si dica in italiano quando vai a chiedere il pizzo, ecco, quando vai a chiedere proprio il pizzo nei negozi. Insomma, diventa uno dei peggiori figli di puttana della storia. A un certo punto fanno una retata, riescono a catturare tutti i suoi amici, anche i suoi due amici d'infanzia, The Beast e The Enforcer, e lui riesce a cavarseli in qualche maniera. E in questo momento storico della sua vita, lui capisce che qualcosa di buono ce l'ha, sa combattere, e inizia ad allenarsi, a prepararsi per la sua carriera di lottatore di Mixed Martial Arts. Divide i suoi allenamenti tra la London Shoot Fighters e la Peacock's Gym. Alla London Shoot Fighters si allena nel grappling e nel wrestling, quindi nella lotta libera. Alla Peacock's Gym fa tutta la parte di striking, soprattutto la parte di pugilato. Ma soprattutto è lì che impara a fare le rapine. Ma questo lo vedremo dopo. Nel 2002, al primo evento UFC in Europa, a Londra, va all'after party e con chi litiga? Con Tito Ortiz. Lo chiama fuori dal locale e lo mette giù, con un destro e un sinistro. Inizia a prenderlo a calcio in testa e poi alla fine tutti quanti i lottatori che erano coinvolti nell'after party escono, lo bloccano. Insomma, il primo match veramente importante di Limarre è in un parcheggio davanti a una discoteca. Nel 2004 combatte contro Anderson Silva. All'epoca Anderson Silva andava fermato solo con un fucile mitragliatore. Era fortissimo. Titolo vacante di Cage Rage, combatte contro Anderson Silva. Nella prima ripresa subisce una punizione durissima. Resiste e nella seconda ripresa inizia a farsi sentire. Insomma, riesce a fare cinque riprese con Anderson Silva nel suo prime time. Di lì a poco sarebbe diventato campione di UFC nei pesi medi e lo sarebbe rimasto per un numero di giorni che ha ancora un record. Il 28 settembre 2005, Lee Murray viene accoltellato quasi a morte. Più di 30 accoltellate sempre nel parcheggio di una discoteca. Era data una festa di una starletta inglese e ne esce quasi morto. Questa è l'ultima nota di colore. Prima del suo arresto nel 2006 in un centro commerciale a Rabat. In pratica Lee Murray, assieme ai suoi compagni di infanzia, gli stessi che aveva conosciuto a scuola, con cui aveva battuto i nigeriani nel quartiere dove era cresciuto, mette in piedi una rapina mostruosa. In pratica è la rapina in tempo di pace che colleziona più soldi in assoluto. Vengono presi quasi tutti. Lui viene preso appunto a Rabat, suo padre marocchino. L'Inghilterra chiede l'estradizione, ma ad oggi ancora niente. Viene condannato a 10 anni e nel 2010 gli anni diventano 25. E Lee Murray è ancora in carcere. Forse ne faranno un film.